Allora parliamo un attimo di Inter caro il mio fusato perché insomma qui c'è un piccolo dettaglio su questo benedetto rinnovo di contratto di Inzaghi perché allo stato dell'arte Marotta di fatto propone un anno di rinnovo fino al 2026 nonostante si sia visto due volte con Tullio Tinti il procuratore di l'agente di Inzaghi che invece ne chiede due fino al 2027 si potrebbe arrivare come dire visto che la verità spesso sta nel mezzo a proporre un 2027 con opzione unilaterale fino al 2027 l'ingaggio verrà alzato a 6 milioni e mezzo di euro all'anno ma insomma per ora in realtà questo tipo di fumata bianca ancora non arriva non c'è la firma cioè c'è da preoccuparsi? Ma non credo io credo che lui chiaramente punta sul fatto che comunque questa stagione l'ha fatto crescere è cresciuto è diventato un allenatore che si è confermato e quindi vuole sicuramente un contratto più lungo l'opzione che hai detto tu 2026 con l'opzione sul 2027 credo sia la linea di mezzo che farà andare d'accordo tutti viene sostanzialmente aumentato l'ingaggio perché mi sembra che siano due milioni netti quindi non credo che sia il problema avevo più paura per Lautaro sinceramente continuo a temere assalti a bastoni io lo dico da un mese e mezzo ormai E non a questo Barella? Barella secondo me oggi è fuori mercato per un tipo di... ha appena rinnovato il contratto da 5 giorni è vero che è relativo però oggi cedere Barella sarebbe secondo me non possibile anche perché cosa chiedi? 130 milioni 250 No, cioè devi partire da una valutazione secondo me... De Bruyne cosa vale scusami 300? Però sono realtà diverse secondo me Ma no però scusami eh Marco è uscito oggi con l'articolo sul dopo Modric di Barella Vuol dire 100-110 Ma secondo me se ti arriva un'offerta 80 Marotta non sa trattare Anche perché Marotta lo dicevamo una volta a sera fra ti ricordi? Che Marotta spesso e volentieri la Juve rinnovava Cancelo, Pogba, Vidal eccetera eccetera e poi vendeva l'anno stesso l'anno dopo Perché hai il controllo da parte del manico Adesso Barella in questo momento vale 80 milioni l'anno prossimo non lo sai No certo io parlo di sensazione mia Anche 100 ne vale Io ho sempre pensato che oggi il giocatore più, parliamo di Premier oggi Però se tu oggi puoi, tu puoi oggi con frattesi in caso rischiarti Eventualmente sì, hai Zazelinski, puoi fare un ragionamento Però io dal punto di vista oggi siccome è la Premier A parte Real Madrid che forse con Bappé ha già sforato Ma lì poi non guarda mai nessuno i bilanci Però oggi 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 Sei d'accordo con me che è la Premier Per rifare lo stadio Oggi è la Premier dove Però il Real è sempre un caso a parte La caso a parte però il resto è Premier Secondo me oggi Bastoni è un giocatore da Premier Però non ne puoi cedere due No E per quello che ti ho detto a sensazione mia Io ti dico che questa vetrina dell'Europeo per me può essere un problema Con tratto rinnovato per Barella che sta facendo questo tipo di partite Restando Dopodiché Inzaghi secondo me è un punto fermo Però occhio perché c'è una frase oggi a Radio Anch'io La detta Marotto Possiamo andare a leggere insieme In cui si parla proprio del rinnovo di Inzaghi Dice rispetto agli allenatori emergenti che ci sono in circolazione Molto più giovane Ha tempo per fare esperienza Ha fatto un salto in avanti notevole Un bravissimo allenatore moderno con qualità umana Che va di pari passo con la competenza Oggi allo sport si richiedono questi valori Inzaghi li coniuga Ha tanta pressione addosso Perché è responsabile e tecnico di un club mondiale Come tale si esigono Usa il verbo esigere Si esigono certi risultati Ma sono molto contento e ottimista sul suo futuro La speranza è che resti con noi tanti anni Cioè Tradotto se arrivi secondo è fallito Eh ragazzi qui mette un carico da 90 Dice sì Io ti premio con 6 milioni e mezzo all'anno Poi vediamo 26, 27 O 26 con opzioni sul 27 Questo poi lo vediamo Però dice si esigono Di fatto sta da un lato valorizzando Dall'altro in un'ottica di trattativa contrattuale Si sta dicendo non chiedermi troppo Perché tu hai vinto e hai fatto il tuo Cioè in questa condizione hai fatto il tuo Ti sta dicendo questo Ma è in ottica di rinnovo Ce lo sta dicendo E' anche vero che un anno e mezzo fa Va detto Se molto probabilmente viene eliminata dal Porto Certo L'intercambio allenatore Sì sì Da una mano Quindi è per questo che secondo me Mi faccio una domanda Secondo voi Marotta è così insensibile O poco attento da dire Una frase come quella che ha appena studiato Francesco Assolutamente no Cioè il fatto che Ha usato un verbo La parola è molto chiara Esige Esige Ma come quando ti dice molto giovane Cioè cosa vuol dire? Cioè la domanda secondo me Voi dovreste mettervi dalla parte di Marotta Che vede una squadra di questo calibro Doveva fare meglio in Coppa Italia Meglio in Champions League E vincere lo scoglietto per forza Quindi forse lui non vede questa annata Col bicchiere mezzo pieno Contrario Contrario di quello che raccontano Gli amici e tifosi interisti Che hanno giustamente festeggiato Uno scudetto particolare Però ce l'ha da dire una cosa Francesco Oggi sul mercato Intanto Inzaghi è attenzionato Alla Premier da mesi Sì 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 Prima roba Si parlava di Liverpool addirittura Seconda roba Ragazzi io vi dico Visto che in giro c'è un gestore A piede libero Che una squadra del genere La gestirebbe benissimo Io avrei paura Da Juventino Mi preoccuperei Se un Allegri Finisse sotto le grinfie di Marotta Allegri Con questa Inter Perché da gestore di questa squadra Allegri vince tre scuoti di fila E non so che cos'altro Però c'è da Non c'è da Sì è vero Ma stiamo parlando forse Più traslato Perché quest'anno Marotta L'Inter quest'anno parte Da un vantaggio Però in Champions Non può uscire agli ottavi Non può uscire agli ottavi In Coppa Italia E quello è il concetto Certo Alla fine ha fatto di più L'Atalanta in Europa Che l'Inter con lo scudetto Forse la Coppa Italia Ci può anche stare Che magari Ai ottavi? Ma sì va bene Ai ottavi? No se poi giustifichi Un commeno diverso in Champions Ma no Allora è così L'anno non bilanci Ma una squadra di questo calibro Non può uscire agli ottavi In Coppa Italia? No certo E come se era la Madrid E uscisse agli ottavi Di popoli tagli All'anno prossimo è peggio Cioè nel senso È più forte Quell'anno prossimo dell'Inter Però quest'anno Secondo me Bisogna stare molto attenti A ragionare sugli equilibri Perché a mio modo di vedere L'Inter è più forte Tecnicamente delle altre Però a differenza Mettere in mano un gestore A differenza di altre Non cambia allenatore Quindi c'è un percorso Tecnico continuativo Perché il Milan avrà Un gestore nuovo La Juve cambia allenatore Il Napoli non si sa Che fine fa Quindi Continua sempre forte Già dell'anno scorso No però avere Non cambiare guida tecnica Già Ti metti in una situazione Però adesso l'Inter È una condizione In cui vai in automatico È come se andassi Con il cruise control In autostrada Sì lo so Il problema dell'Inter L'anno prossimo è la motivazione Cioè ovvero Se tiene alta la motivazione Ava Allora i tecnici E di continuità più alti Rispetto a quest'anno E quindi Lui ti sta dicendo Io ti sto dando Una Ferrari in mano La motivazione dell'Inter Marco perdona E se la guidi E arrivi primo Hai fatto il tuo Quest'anno Stai sbagliando tu Quest'anno a me È dispiaciuto Ha ragione Bisogna essere onesti Cioè l'eliminazione Agli ottavi Nel modo con cui è venuta Ti lascia Un qualcosa di amaro In bocca Perché comunque Vai là Vai in vantaggio Eccetera Però Ti ricordi All'inizio della stagione La società Punta un obiettivo Però parte Il finalista Di Champions L'anno prima Quest'anno l'obiettivo Siccome in arrivare In finale di Champions È difficile L'obiettivo La seconda stella Ha coperto tutto Tutto il resto Che non è andato Ma uscire col Bologna Agli ottavi Di Coppitalia Uscire con l'Atletico Come due vantaggi Due gol Cioè non è una roba Da squadra L'Inter La guardo E mi sembra Molto simile Molto simile Come Rosa Adesso A quello che Marotta Ha costruito Nel terzo o quarto anno Per Conte a Lega Quando tu hai Quando tutti i cambi Erano quasi all'altezza Quando tu hai Perché Zaghi Per me non hai due scudetti Prima Ma ragazzi Questo lo fai Però esigere È un verbo forte No Giacomo Ti ha detto Che se a Milano Arrivi secondo Ma dal mio punto di vista Ha detto una cosa per una squadra Che ha certi valori Perché lui sa Che comunque L'Inter La Juve Il Milan Queste tre squadre Tu non puoi andare lì All'inizio dell'anno A dire Arrivo secondo Io arrivo secondo O vado in cempio Va benissimo L'Inter È stata costruita in questi anni Benissimo da loro Nonostante tutte le difficoltà Secondo me Hanno lavorato Nel modo splendido Però è chiaro Che adesso Nel rinnovo Il presidente Perché in questo momento È diventato presidente Esiga di più Francesco Perché vuole di più Perché hanno appena detto L'anno scorso Fanno un resoconto Secondo me La seconda stella È stata una cosa importante Perché arrivare alla seconda stella Il vero obiettivo dichiarato È sempre stato quello Più che ripetere Il cammino in Champions League Loro l'avevano detto Fino dall'inizio Fino dal ritiro Io credo Che la seconda stella Per l'Inter Era un obiettivo Non importante Di più E questo la ragione Però è chiaro Che Marotta Vuole far meglio Rispetto a quest'anno Nelle altre competizioni Dove sono uscite Troppo presto Secondo lui Allora per un motivo Nell'altro Comunque sei uscita Parlo della Coppa Italia Parlo della Champions League Ma ha detto questo Secondo me Marotta Non ha detto niente Di particolare o strano Ha usato dei toni forti Paroli forti Per una squadra Forte Che pretende di più Di quello che ha fatto L'anno scorso Punto Ma Giacomo Quando ti dice È cresciuto È ancora giovane Perché lui viene Quando parla di pressione Lui viene da un ambiente Con tutto il rispetto La Lazio Dove arrivare Sì ma è tre anni Che è lì all'Inter Sì Però nel suo percorso È sempre stato abituato Arrivo in Champions La mia stagione È positiva Ok Qui gli dice Guarda che adesso qua È una pressione diversa Perché l'anno prossimo Se arrivi secondo Ricchi Uno Cominzaghi Arriva dalla Lazio E tu pensi che lui non sa Che dalla Lazio all'Inter Deve cambiare gli obiettivi Sì Però parla di pressione Perché gli dice Qui c'è una pressione Allora la domanda che ti faccio A te che sei interista Ma secondo te negli anni che è stato qua Presidio si ha vinto poco Tanto Non lo so Ognuno dice quello che vuole Ma secondo te non è migliorato in questi anni Certo Ma è migliorato anche l'Inter Però la società pretende ancora Un maggior miglioramento Certo Non solo la riconferma in Italia Ma anche in Europa Cioè alzare il livello E alzare anche Le vittorie Visto che Ha in mano una macchina Che performa come nessun'altra Al momento Allora Per quanto riguarda La lunghezza Del rinnovo Un anno È perché Marotta È un grandissimo dirigente È evidente che vuole avere lui Il coltello Dalla parte del manico Quindi io ti do Un anno in più Non te ne do due Assolutamente Perché poi Vado sotto schiaffo io Per cui lì Marotta ha fatto il dirigente vero Per quanto riguarda Il discorso dell'esigere È evidente che Marotta Si esprime in questo modo Perché lui Non vuole Sicuramente uscire col porto Lui dice Se mi ritrovo davanti Il Real Madrid O il Manchester City Ha un senso Che io possa uscire dalla Coppa Esatto Se mi ritrovo in campionato Conte Che mi fa Un campionato Dove mi fa 100 punti Chapeau È evidente che Lui alza l'asticello Marotta Perché è bravissimo L'ha fatto per tanti anni La Juventus Benissimo E lo farà sicuramente All'Inter anche in futuro Però è evidente Che Inzaghi Dovrà ancora dimostrare Come ha fatto Allegri A suo tempo E come fece Conte A suo tempo Ragazzi nel calcio Funziona così Quindi Marotta Fa il dirigente Come deve essere fatto Anche perché Non è che non è Che gli toccano l'ingaggio Gli aumentano sensibilmente Quindi è un investimento Importante Quindi secondo me Ci sta l'uno più uno Volendo proprio vedere Come dicevi tu all'inizio Diamo un'occhiata anche Alla formazione dell'Inter Almeno per il momento Insomma quella che è La formazione dell'Inter L'impianto di gioco Sostanzialmente resta lo stesso Con però l'aggiunta Già di due colpi importanti Che sono Zilinski a centrocampo E Taremi in attacco C'è da risolvere C'è da risolvere il nodo Dunfriss Con i giocatori che all'inizio Non voleva rinnovare Poi sembrava di sì Adesso sembra di nuovo di no Insomma È una situazione un po' Particolare Ma soprattutto c'è il discorso Attaccante Perché In questo momento È Arnautovic Che sta bloccando un po' Le manovre In attacco all'Inter Se Arnautovic lascia il posto libero Davvero l'Inter può provare Ad andare a prendere Gudmundson Molto più facile Andare a prendere Martinez Portiere del Genoa C'è una forbice Di soli 5 milioni di euro 18 ne chiede il Genoa 13 ne propone l'Inter 13 più 2 di bonus Quindi diciamo Dai 3 ai 5 milioni Alla forbice Per far di Martinez Il vice Sommer L'anno prossimo E poi eventualmente Lasciargli la porta Tra due anni C'è una valutazione importante Un po' più complicato Il discorso Gudmundson Che costa 30 milioni Per il Genoa Guarda caso Lo stesso valore Lo stesso valore di Valentin Carboni Che poi lì col Genoa Puoi magari inserire anche una O magari ti tieni la recompra Glielo dai Non dà il prestito Col diritto di recompra Cioè Marotta Cerca un'operazione alla Marotta Per avere Come dire La botte piena E la voglia ubriaca Cioè avere Gudmundson In attacco Dare Valentin Carboni Ma non perderlo del tutto Però L'informazione Che sarebbe capace L'informazione Che hai fatto vedere Togliamo I gialli Mettiamo che non si concretizza niente L'Inter di fatto È già forte così Ma è più forte lo scorso Però Mi sembra Uno step importante L'investimento Su secondo portiere Perché comunque 12-13 milioni Più un giocatore Per un secondo Vuol dire che vedono È un secondo Che diventerà Sì no Però vedono in lui È stato bocciato Sì Perché è la rosa Perché è la rosa più completa E perché è un gruppo Che lavora insieme Da anni E poi in giro C'è confusione Se questa squadra Se questa squadra Avesse un gestore Al Lancerotti O l'Allegri Vincerebbe Tre squadri di sfile Forse farebbe Un'altra finale Comunque hai ragione te Secondo me Se Arnautovic Trova la sistemazione Intervengono anche davanti No no Per forza Se parte Arnautovic Sicuramente Non ha dato garanzie Cioè l'anomalia dell'Inter Non è quest'anno che vince L'anomalia dell'Inter È i due anni precedenti Che perde gli scudetti Sì sì Sono d'accordo Lì con la rosa che ha Sono d'accordo Certo Perché Pioli Sono più bravo due anni fa No E l'anno scorso È stata questa anomalia Del Napoli Che in effetti Può sconquassare In un campo Troppo devi stai dietro Tu Sì sì Non dico io Juve messa così Ma tu Inter Doviste Forse ha perso Quello col Mila Con Napoli Puoi perdere 14 partite In un campionato Però il Napoli Lì magari Io penso più col Milan Col Milan Ci ha messo Il Napoli Gli ha rifatti l'Inter Quest'anno È grosso modo Quello che ti sta dicendo Marotta Rifacendo Se hai le frasi Presidente L'Inter se non sbaglio Sul campo Arriva quarta due anni fa Giusto? Sì Dietro la Juve Con quello che abbiamo fatto Con il lavoro Che abbiamo fatto dietro L'Inter non può arrivare quarta Non è che non può Vincere lo scudetto Con quel Napoli Ma quarta in campionato Tu stai fallendo In campionato la stagione Però c'è la finale di Champions Che ti rivaluta un attimino Ma è stato Ma lui deve ringraziare Gli ultimi due mesi di campionato E l'Inter è figlia Gli ultimi due mesi di stagione Quando è la finale di Champions Diciamo del percorso di Champions Assume una consapevolezza Che poi dopo Si è tramutata Nella qualità E nell'espressione di giro Quest'anno Come? Poi sono bravi a trovare Il Turam Ma la domanda è I tre anni Tre anni ha fatto Inzaghi L'Inter Cinque trofei Sì Tre anni I tre anni Sono positivi o negativi Secondo voi? Cinque trofei Giusto? Cinque trofei Ma di cui due copitagli E supercopitagli Allora Secondo me Inter può vincere Supercopitagli E supercopitagli In questa ronda Però come crescita Della squadra Ha fatto il secondo posto La Champions Massacravamo a Levi Per la fia di Champions Secondo me Come crescita Quest'anno L'Inter giocava bene No Però Come crescita Ricchi La domanda Non è stata fatta a caso Il discorso è È vero Sul discorso del campionato Col Milan Quando ha vinto il Milan Lì è toppata Però Nei tre anni Tu stesso prima hai detto Che arrivava dalla Lazio Comunque Non aveva le abitudini Di gestire Supercopitagli E copitagli Vinceva ancora la Lazio No Parlo della gestione Della società Sono due gestioni diverse Allora Quando lui arriva Deve ambientarsi Perciò In tre anni La domanda è stata Tre anni Ha fatto bene O male Non è fatto bene Non benissimo Ma ha fatto bene Cioè Quest'anno Allora Quest'anno C'è stata una serie di eventi Che hanno un po' Secondo me Nel tifoso interista Cancellato il ricordo Dello scuetto al Milan Perché Non c'entra niente La papera di Rado A Bologna È una gestione diversa Cioè Non è che l'Inter Perde lo scudetto lì L'Inter perde lo scudetto Perché fa la serie di pareggi A cavallo della gara Lì con il Liverpool Fa sette pareggi di fila Eccetera Avere vinto Il campionato Della seconda stella In un derby Oggi Se chiede un tifoso interista I tre anni Ti dice che sono positivi Ma ha fatto anche la finale No Ti sto dicendo L'ha persa Però l'ha fatta Secondo me Bene Bene Ma non benissimo Capito che Scusate Cristiano Ronaldo In tre anni di Juventus Ha vinto due scudetti Due supercopi italiani A Coppa Italia Ha vinto di più di Inzaghi E ha fatto 103 gol In 150 partite Sì In un'altra categoria No ho capito però Siccome è per l'Inter Che è E per come è stata lasciata Prima da Spalletto Andiamo a Spalletti Che la porta al quarto posto In quella stagione Lì nasce l'Inter Lì nasce la prima Lì si ricomincia a ricostruire l'Inter Conte arriva e la plasma La fa vincere La porta in finale di Europa League Poi Inzaghi fa Per due anni Quello che ha fatto la Lazio Cioè porta Supercopi italiane Coppa Italia All'Inter Perdendo due scudetti Che doveva giocarsi Meglio Quello col Milan Lo perde perché fa sete pareggi Perché Radu fa quella roba lì Ma il Milan vince con 76 punti Sì credo Cioè Media bassa La finale del Cerno La finale del Cerno La finale del Cerno La finale del Cerno E l'anno dopo perde 14 partite L'Inter di Inzaghi Ragazzi 14 La finale La finale del secondo anno Di Inzaghi Secondo anno fa la finale di Cerno Sì capito ma con che Jack No Parliamo dei sorteggi Ha fatto l'Europa Lì da una roba Perché quest'anno c'è il sorteggio diverso Non ci arrivano neanche i quarti Il problema è che Se parliamo dei sorteggi Noi dobbiamo parlare per il risultato Come dicevamo prima Del Belgio Ti ricordi? Sì certo Il risultato poi è quello lì I sorteggi La stessa Per me per la rosa che ha l'Inter Doveva portare Secondo me per i tre anni Secondo me no Per i tre anni Secondo me non ha fatto male Se mi dici che ha toppato l'anno del Milan Dello Scudetto Poteva far meglio Sì Ma l'anno scorso hai perso 14 partite Tornando a bomba Scusi Per chiudere Parlavamo di attaccanti Perché quest'anno Loro vogliono Uno step superiore Perché l'anno scorso Di fatto Ti manca Lautaro Ti manca Turam E Arnautovic Nel doppio confronto Con l'Atletico Madrid Non dà quella garanzia Vi ricorderete I due gol Che si mangia a San Siro Con l'Atletico Madrid Loro vogliono Uno step successivo Ad Arnautovic Questo Per essere più perfetti Di quello che siamo L'anno scorso L'attacco Si parlava quest'anno Della migliore Inter Degli ultimi 15 anni Che segnavano tutti Però davanti Vai in vantaggio Di due reti Però Francesco Per un momento Non esiste Per i tuoi commentari Perdi Turam Perdi Lautaro Martinez E non hai Ma dove perdi Con l'Atletico Madrid A ritorno? No All'andata All'andata Perdi Turam Gioca Arnautovic Era Lautaro Sì Però era Era un po' cotto Diciamo Capito Anche loro Eravano fuori Morata E altri due Sto dicendo Sto dicendo Per commentare La formazione di prima Sì Cercano uno step Successivo ad Arnautovic Per i problemi Quello sicuramente Regal